Cash & Carry è il nome di una strategia di trading che assicura un guadagno annualizzato che mediamente supera il 10%. Non temete, è alla portata di tutti e non richiede né conoscenze né strumenti particolari o particolarmente avanzati. Essa sfrutta semplicemente la differenza tra il prezzo dei futures e il prezzo del sottostante bitcoin, ovviamente nel nostro caso, che è un valore sempre positivo e decrescente fino alla scadenza del futures stesso in cui i due prezzi convergono. In questo video vi spiegherò come applicare questa strategia, come capire quanto ci può rendere e infine qualche piccolo trucco che permette in situazioni particolari di amplificare notevolmente il nostro guadagno. Quindi mi raccomando guardatelo tutto questo video. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Me l'avete chiesto, vi ho visto interessati sull'argomento e quindi ho deciso di portarlo in video. Parlo ovviamente del cash and carry, una strategia che non preoccupatevi, ve l'ho detto, è semplice, alla fine di questo video saprete gestirla e portarla a termine in completa autonomia. Se prezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like che mi incentiva, mi gasa tantissimo, per me è davvero importante e mi spinge a creare sempre contenuti di qualità al massimo. Iscrivetevi anche al canale, cliccate sulla campanellina, molto importante, per rimanere sempre sul pezzo. Vedete che ultimamente cerco di fare uscire contenuti particolarmente allettanti, diciamo così, quindi non perdeteveli e seguitemi anche sugli altri canali social i cui link sono in descrizione. Ora basta chiacchiere, andiamo ad aprire un paio di grafici a capire come si applica la strategia cash and carry su bitcoin. Come vi ho detto poco fa, lo scopo della strategia cash and carry è quello di andare a sfruttare la differenza di prezzo che c'è tra bitcoin e i futures su di esso. Bitcoin fa da sottostante e il future su bitcoin ovviamente è il suo strumento derivato. Questa differenza è sempre presente e tende a diminuire col tempo fino ad arrivare a zero alla scadenza del future. Adesso vi voglio mostrare degli esempi. Però prima di iniziare vi ricordo che questa strategia è agnostica al mercato, non dipende dal salita o dalla discesa dei prezzi. Il nostro guadagno dipende da un fattore certo che abbiamo, ovvero il diminuire nel tempo dello spread, ovvero la differenza, tra il sottostante e il future. Quindi questo è il punto di partenza. Per dimostrarvelo, guardate, ho aperto Bitmax, che è il più famoso, penso, exchange di futures su bitcoin, e vedete che il prezzo di bitcoin, o meglio del perpetual, che però mima il prezzo di bitcoin, è identico, è 8.757. Il prezzo dei suoi futures, invece, è per quello a scadenza 27 dicembre 8.853, per quello a scadenza 27 marzo quasi 9.000. E quindi vedete che, in primis, la differenza c'è ed è tangibile. In secondo luogo, vedete che il future a scadenza più lontana, come facilmente intuibile, ha una differenza di prezzo rispetto a bitcoin più alta rispetto a quello a scadenza più vicina. E questo si sposa con la nostra altra ipotesi del fatto che lo spread diminuisce nel tempo, fino ad arrivare a zero a scadenza. Va bene? Quindi, partendo da quest'ipotesi, adesso possiamo capire come funziona la strategia, come applicarla, e qualche trucchetto, diciamo così, per migliorare notevolmente il suo possibile rendimento. Però bisogna essere un po' più sul pezzo. Iniziamo subito dal capire come funziona la strategia. È abbastanza intuitivo, diciamo così. Prendo bitcoin, prendo uno dei suoi futures, apro su di essi due posizioni, uguali e opposte. Quindi, long un bitcoin, short un bitcoin di controvalore di uno dei due future, e ho due posizioni identiche. Quindi, sale il mercato, non mi importa niente, perché il long guadagna, lo short perde. Scende il mercato, lo short guadagna, il long perde. Qual è l'unico fattore che mi porta a guadagno? Il fatto che questa differenza tenda a zero. Ok? Quindi, avendo due posizioni di questo tipo, col fatto che questa differenza inizialmente è, supponiamo, 200 dollari, alla fine è zero, avrò guadagnato 200 dollari. Se il mio, scusate, se la mia posizione è di un bitcoin da una parte e un bitcoin dall'altra. Naturalmente, se fossero due, il guadagno sarebbe doppio. Se fosse metà, sarebbe la metà e così via. Quindi, questo è il punto di partenza. aprire due posizioni opposte e lasciarle maturare alla scadenza del future. Però facendo così, diciamo, lo sfrutto pochissimo questo potenziale che ha lo spread tra il future e il sottostante. Perché ci sono dei trucchi per andarne a potenziare il rendimento. Seguitemi. Andiamo a vedere innanzitutto questi due grafici che ho costruito, che non sono altro che la differenza, per l'appunto, su TradingView li ho costruiti, la differenza di prezzo tra il future e il bitcoin dei due future disponibili su BitMEX. Vedete, quello che scade a dicembre ha come ticker XBTZ19, ed è questo qua sotto, differenza tra quello e bitcoin, dollaro preso da Bitstamp, mentre quello sopra è XBTH20, ovvero quello a marzo 2020. XBTH20 a scadenza marzo 2020. Qua sotto, come benchmark di riferimenti, in entrambi i casi, ho messo il prezzo bitcoin dollaro o Bitstamp, che è quello che fa da riferimento anche per la differenza. Cosa notiamo? Allora, andiamo a vedere per primo questo che è quello a scadenza più lontana. Notiamo che lo spread, questo chiamiamo lo spread, da un d'ora in poi la differenza, varia nel tempo. Varia nel tempo. In che modo? Con che logica? Allora, un fattore ce l'abbiamo già. Abbiamo detto che all'avvicinarsi della scadenza, lo spread tende a diminuire fino ad annullarsi. E già lo vediamo, ovviamente, che questo è 238 e quello sotto è 98. Lo vediamo dal fatto che comunque i massimi sono sempre decrescenti, c'è un po' questo trend, che mi dimostra che comunque lo spread tende a diminuire nel tempo, ovviamente, all'avvicinarsi della maturazione del future. L'altro fattore che è importantissimo, è fondamentale da tenere in considerazione, è il sentiment del mercato. Che significa? Significa che più il sentiment del mercato è marcato, scusate il gioco di parole, più lo spread aumenta in valore assoluto. Che significa? Significa che se siamo in bull market fortissimo e magari c'è un pump mostruoso, mi immagino che lo spread aumenti tantissimo. Perché? Perché il future, come dice la parola stessa, è una scommessa sul prezzo futuro di bitcoin, alla data di scadenza. E quindi prezza già al suo interno il sentiment verso il futuro. Ok? In bull market il future costerà molto di più del sottostante. Ottima opportunità di arbitraggio. E ovviamente, guardate a caso, nel momento in cui bitcoin valeva 10.000 dollari, lo spread arrivava in media a 430 dollari. Sto guardando qua sopra. C'è stato il calo, il crollo, il dump da 10.000 a 8.000, c'è stato il dump dello spread da 400 fino a 100, fino a arrivare a un punto quasi dove si è annullato addirittura. Vedete? Quindi cosa ci dice tutto questo? Ovviamente una posizione di cash and carry conviene aprirla nel momento in cui lo spread è elevato, chiaramente, perché io guadagno su quello, è lo spread che mi dà profitto. Pertanto dovrò aprirla. Primo, quando il sentiment è estremamente forte. Secondo, quando c'è un movimento che dà ragione a quel sentiment. Quindi, sempre sotto ipotesi di bull market, vedete, se c'è un sentiment di fondo bullish, poi magari adesso qua è venuto smorzato, poi c'è stato subito il pump improvviso, vi ricordate, il 26 ottobre, guardate cosa ha fatto lo spread. Ha avuto un pump fuori di testa, fino ad arrivare in un momento della giornata addirittura a quasi 700 dollari, per poi riabbattersi subito, perché, se vi ricordate, su, appunto, buona parte del pump è stata assorbita immediatamente. Ovviamente, questo era una possibilità di guadagno pazzesca già in un giorno, ma anche per chi non vuole fare un'operazione di scalping, quindi di apertura e chiusura di una posizione cash and carry, nel giorno stesso, o comunque di breve termine, se uno riusciva ad aprire la posizione in questa fase, ma anche in questa semplicemente, si assicurava un guadagno maggiore, perché una volta che la posizione è aperta, a quel prezzo lì, tu la lasci maturare, e il guadagno assicurato ce l'hai. Se vuoi fare uno step successivo, cos'altro puoi fare? Individuare sempre un buon entry, nel momento in cui, appunto, c'è un sentiment molto forte, piuttosto che un pump molto forte. Guardate qua, il future a scadenza più vicina, che ovviamente è stato listato prima, rispetto a quello del 2020, ha uno storico un po' più ampio, e possiamo vedere che durante la fase bullish, da 8.000 a 12.000 a 13.000, lo spread è arrivato a 800 dollari, guardate che è scesa, da 55 a 800 dollari. Una volta che io riesco ad aprire una posizione qua, ma sicuro a scadenza comunque un guadagno di 800 dollari. E cos'altro posso fare per fare lo step in più? Oltre che aprire la posizione in questo momento, posso andarla a chiudere nel momento in cui, magari, il sentiment si affievolisce, piuttosto che il pump viene assorbito, il mercato si appiattisce un attimino, senza stare ad aspettare la scadenza, perché, comunque, tenere aperta una posizione di questo tipo, significa vincolare un notevole capitale, due bitcoin, se voglio tenere aperta contemporaneamente un long e uno short, capite? Due bitcoin per un guadagno di, sì, 700-800 dollari, che non è affatto male, però capite che, appunto, c'è un certo vincolo di capitale. Per farla in maniera un po' più smart, vedete, io posso aprire la posizione in un momento di particolare euforia, e poi, se vedo che l'euforia si spegne un po' e lo spread va a diminuire, vado a chiudere entrambe le posizioni e incasso il guadagno dovuto dall'arbitraggio sullo spread. Una cosa che io posso riuscire a fare, magari non riuscire a fare, però comunque so per certo, perché questa è una certezza, c'è l'incertezza del fatto che dopo il pump comunque il sentiment si affievolisca, non me lo dice nessuno, se succede meglio, perché chiudo in anticipo le due posizioni, se non succede, lascio andare a maturazione, tanto so per certo che lo spread si azzera al momento della maturazione. Statisticamente non è mai la prima volta in cui lo spread si annulla o quasi, quindi si riesce comunque ad approfittare di un cash and carry, tra virgolette, prematuro, anche senza aspettare maturazione, però, se io voglio stare tranquillo, lo sono, perché so che succederà. Quindi, spero di essere stato chiaro, perché è davvero un concetto importante questo, sia per fare un profitto, semplicemente speculativo, sia come posizione di copertura, perché se io sono un holder di tre bitcoin, supponiamo, e voglio coprirmi dalla variazione di prezzo del mercato, quindi essere immune alla variazione di prezzo del mercato, e nel contempo assicurarmi un guadagno, vado ad aprire uno short di tre bitcoin sul future, con quando c'è lo spread giusto. È vero, ho bisogno di sei bitcoin da vincolare, ma capite che è una posizione a rischio nullo e a guadagno, certo, quindi è ottima. Quanto si può guadagnare da questa strategia? Mi aiuta tantissimo il sito SKU, che è un sito di analisi di dati, su varie cose, tra cui bitcoin futures, insomma, l'abbiamo visto parecchie volte nei nostri video, e vedete che c'è questo riquadro, Listed BTC Futures, Annualized Percent Basis, che mi fa vedere, comparando diversi exchange, di cui adesso ho nascosto Huobi e Bitflyer volutamente, perché dava risultati un pelino anomali, quindi preferisco rimanere nella media, mi fa vedere annualizzato già, che percentuale di guadagno avrei facendo un cash and carry, vedete che la media è tra il 9 e il 10%, cosa significa annualizzato? Significa che in questo momento apro un cash and carry, sul future indicato in, insomma, dal pallino, 27 dicembre, e la lascio maturare, quando matura immediatamente ne riapro un'altra e così via, è una stima, è sempre una stima a difetto, ve lo dico per esperienza, perché qua, vedete, riperpetua nel tempo praticamente un future a scadenza vicina, e quindi con uno spread decisamente basso, quello del 27 dicembre, è quello che ha spread 101 dollari, quindi spesso e volentieri non tiene conto di tutto il potenziale che c'è, e soprattutto adesso siamo in un momento di mercato abbastanza piatto, nel pump queste cifre erano molto molto più alte, e comunque nel pump si poteva approfittare anche di movimenti più veloci, perché comunque se io questi grafici li vado ad aprire addirittura nell'intraday, se sono un tipo abbastanza invasato, vedete che ci sono dei movimenti molto molto interessanti, quindi si possono andare a pianificare strategie del tipo che, se vedo che lo spread mi va a fare, che ne so, un higher high rispetto al precedente, visto che so che c'è una tendenza intrinseca nello spread a decrescere verso la scadenza, vado, tac, ad aprire immediatamente una posizione speculativa di arbitraggio, aspettando che questo higher high si assorba, e andando a chiudere poco dopo la posizione, è un'ottima strategia questa, ma ce ne sono innumerevoli altre. Cosa ne pensate? Vi ho dato qualche spunto così di studio, nonché operativo, siete interessati a questa strategia? L'applicherete, non l'applicherete? Avete dubbi, perplessità? Ma soprattutto vi piacciono queste strategie, tra virgolette, a rendimento certo, che magari ne approfondiamo qualche altra, perché ce ne sono anche di altre. Questa è molto semplice e ve l'ho voluta condividere per prima. Fatemi sapere i commenti, mi raccomando, mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi e tutto quanto, e ci vediamo alla prossima!